buongiorno ragazzi come state tutto bene aspettate che devo spegnere si sente spengo un attimo anzi allo abbasso passate un attimo il come che si chiama questo è il purificatore inizio i vlog un po tardi perché sono già le 4 e 20 circa devo sistemare un po la casa la mattina sono andata dalla parrucchiera e quindi ho lasciato tutto il casino da sistemare e adesso ho detto vabbè faccio un vlog e sistemo la casa ciao 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 ragazzi come avete visto ho fatto la lavasoliglie ho tolto tutti i piatti che erano dalla sera precedente perché visto che vi ho detto sono andata dalla parrucchiera sono stata via tutto il pomeriggio non ho pranzato a casa quindi ho messo quelle quattro tazze che erano qui e ora vado a lavare i bicchieri allora volevo solo dirvi che questi bicchieri qua le laverò a mano perché l'altro ieri sono andata dalla Lidl e li ho acquistati questi sono bicchieri per fare drink così ma a me piacciono altrimenti tanto che voglio utilizzarli per bere l'acqua perché sono molto belli sono anche delicati visto che non mi fido molto voglio lavarli a mano perché non voglio rovinarli e quindi mi vedrete lavando i bicchieri a mano tolgo questo tolgo questo ragazzi ragazzi già che ci sono vi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto da Zara in questi giorni pochissime cose ma carine visto che vi piace vi faccio vedere è questo pacchettino allora qui dentro c'è un paio di orecchini poi ho preso anche questa borsa adesso la telecamera non mi sta aiutando molto si vede bene però su mio instagram l'ho già fotografata quindi se andrete lì la vedrete meglio con questa catena molto 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 fashion molto carina comunque la borsa è così poi ragazzi ho preso questa mutanda una mutandina così era l'ultima ed era in saldissimo super saldi da 17 95 ho pagato bensì in 5 euro quindi l'ho acchiavata subito perché comunque la volevo mi dispiace perché non sono riuscita a prendere il pezzo sopra che era molto carino e questa è in lana adesso non c'è gli occhiali non ci vede quindi carina e bella calda non so quando la metterò veramente però mi piaceva ed era l'ultima poi ragazzi per finire giustamente ho preso due t-shirt basic questa nera così adesso è tutta stupesciata perché comunque devo lavarle prima di indossarle e sono così basica molto 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 basic e la bianca uguale precisa così ho questo scollo a b semplice niente di particolare e la mia taglia una s ho preso una s una m e costavano meno di 6 euro e niente ragazzi questo è stato il vlog spero che vi sia piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti lasciate i vostri like commento vi mando un bacione e al prossimo video ciao ciao